I 5 errori che non devi fare se vuoi raggiungere la libertà finanziaria quando hai 20 anni e che io invece ho fatto. Salve a tutti, Marco Casario qui e oggi andremo un po' a parlare di quelli che sono gli errori che si compiono più spesso quando si è molto adolescenti e magari non ci si pensa bene ma con poche accortezze vi assicuro che può cambiare molto la situazione sulla vostra libertà finanziaria e sulla capacità anche di investire che avete con poche piccole azioni quando sarete più grandi. Andiamone un po' a vedere insieme allora. Ed eccoci qui, siamo in un posto un po' più tranquillo per parlare di 5 errori da evitare. Ovviamente per far questo ragazzi vi parlerò degli errori che in primis ho fatto io perché sono sicuro che in primis bisogna imparare dai propri errori e spero che il fatto che io abbia sbagliato vi porti e vi aiuti a non dover sbagliare anche voi soprattutto perché non sbagliare vi permette di accorciare la strada per arrivare dove volete arrivare. Qual è il primo grande errore che dovete evitare e che io ho fatto? È quello di dire sì alle persone. Quando sei giovane hai una certa voglia e preponderanza per cercare di far contenti gli altri, a volte ancora prima di far contento te stesso. E non so perché ci sono persone che passano la vita a far contenti gli altri e non fanno nulla invece per far contenti se stessi e per raggiungere gli obiettivi che vogliono raggiungere. Ecco, il problema di dire sì a tutti e a tante persone è quello di dedicare il tempo alle altre persone e non dedicare il tempo invece a quello che si vuole veramente fare, dove veramente si vuole arrivare. Con questo non voglio dire che dovete dire di no a tutti e non dovete essere altruisti. No, assolutamente, non è questo il punto. Quello che sto invece dicendo è di trovare il giusto balance e soprattutto imparare a usare di più la parola no e cercare invece di fare le cose che vi avvicinano di più al vostro risultato. E quindi questo è il primo punto su cui voglio farvi concentrare. Secondo punto, rimandare, o meglio, fare l'errore di non rimandare le gratificazioni. Che cosa vuol dire? Vuol dire che io ho avuto la fortuna di praticamente di lavorare ancora prima di finire il mio istituto tecnico, quindi ancora prima di andare all'università già avevo la fortuna di lavorare perché ero un programmatore nel 94-95 e programmare su internet era praticamente, lo facciamo veramente in pochini in Italia e quindi ho avuto la fortuna di riuscire a trovare sempre subito tanti lavoretti da fare, il che mi portava a guadagnare molto bene quando ero ancora piccolo. Mi ricordo che all'età di 18 anni guadagnavo praticamente di più di quello che guadagnava mio padre e mia madre. Il problema è che quei soldi a quell'età li ho spesi in tante, tante stupidaggini, futili a dire la verità. Se mi dico sempre, il mio più grande errore è stato quello di non aver da subito investito i soldi che avevo guadagnato invece di comprarmi cose stupide. Ho veramente investito, no investito, scusate, ho sprecato soldi in questo caso comprando tantissimi vestiti, come se il mio guardaroba dovesse essere il guardaroba praticamente di un negozio. Quindi questo è stato l'errore che ho fatto. A 20 anni avevo una macchina a due posti con cui andavo in giro e molte volte facciamo questo un po' per dimostrare quello che abbiamo e quanto guadagniamo, un po' per avere quello status nella società che quando sei giovane sembra che ti è richiesto. E quindi oggi quell'errore non lo farei, oggi invece quei soldi li prenderei, li investirei perché se l'avessi fatto probabilmente a 18 anni, se avessi cominciato veramente a 20 anni a investire quello che guadagnavo, oggi il mio status sarebbe molto molto diverso. Quindi una cosa che vi chiedo di fare è pensate a lungo termine, non pensate alle gratificazioni per oggi. E questo non vuol dire che non dovete averne di gratificazioni, sto semplicemente dicendo pesate sempre sulla bilancia che quello che vi comprate e quello che oggi spendete non ce lo avrete domani, quindi pensatela in quest'ottica. E vi dico che quando siete giovani è il momento invece di spingere il pedale e di impegnarvi di più piuttosto che avere delle gratificazioni che poi potrete avere quando avrete magari 30, 35, 40 anni. Magari se avete fatto bene a 40, 45 anni potreste smettere definitivamente di lavorare e dedicarvi a quello che vi pare e soprattutto a quello per cui avete veramente passione. E questo è il secondo errore da evitare. Terzo errore, quello di ascoltare troppo il parere degli altri e fare delle cose o non fare delle cose perché si teme di essere giudicati. Purtroppo viviamo in una società che già da scuola ci edica ad essere giudicati e poi quando usciamo la società ancora di più ci giudica, i vostri amici, la vostra famiglia e quindi cercate di, di nuovo si ricollega al primo punto, cercate di, diciamo per far contenti gli altri o per non essere giudicati male dagli altri, magari non fate alcune cose o non dite alcune cose che di nuovo avrebbero invece, vi avrebbero avvicinato di più al vostro obiettivo. Quindi pensateci bene quando state, vi state negando una cosa o state decidendo di non farla se lo state facendo perché veramente non volete farla o veramente volete farla, viceversa o se lo state facendo per accontentare qualcun altro, per essere, per aver paura di essere giudicati. Soprattutto quando si è giovani ragazzi e si entra nel, diciamo nella società si dà così tanta importanza ad essere accettati, ad essere ben voluti da tutti e da tutto ma vi dico la verità, alla fine oggi sono molto più grande di quando avevo vent'anni conta davvero poco perché quello che conta è la vita che vi costruite quello che conta sono gli affetti veri, la vostra famiglia, la vostra compagna, la vostra ragazza i pochi amici che avete, ecco, un conto sono loro e di loro invece magari dovreste avere una riconoscenza, un'attenzione e anche magari ascoltarli un po' di più ma degli altri e del giudizio degli altri che non vi sono niente e che magari vi stanno giudicando non perché gli interessa il vostro bene ma semplicemente perché la società gli dice di farlo cercate di non essere così attaccati al giudizio degli altri questo è sicuramente un consiglio che ai ventenni so che riuscirà molto difficile da applicare ma è un consiglio che mi viene veramente dal cuore e collegato a questo è fate molta attenzione delle persone di cui vi circondate è molto importante ragazzi se avete degli obiettivi e se veramente nella vita volete raggiungere degli ottimi risultati è molto importante la cerchia di amici che vi costruite di amici e di amicizie io lo chiamo di networking perché vi assicuro che quelli influiranno tantissimo nelle scelte che farete nella vostra vita e anche nelle possibilità che possono darvi lo sapete che spesso mi sono detto quando ero più grande ovviamente cavolo ma perché per tanti vi faccio l'esempio con il trading e con gli investimenti lo sapete perché io ho iniziato tardi a fare trading e investimenti non li ho fatti quando avevo 23-24 anni non ho cominciato a quell'età ho cominciato un po' più dopo un po' più in là nell'età perché ho ascoltato il mio partner in business all'epoca non era ancora diventato un partner in business ma semplicemente lavoravamo su alcuni progetti insieme mi diceva che lui aveva perso praticamente gran parte dei suoi risparmi facendo investimenti e mi diceva che fare trading e investimenti era praticamente voleva dire buttare soldi e io diciamo tra virgolette ho seguito il suo consiglio ma come dico sempre perché ascoltare i consigli di chi ha fallito nella vita o non è mai arrivato invece di ascoltare i consigli di chi ce l'ha fatta quando... ed ecco l'importanza della cerchia di amici che vi costruite perché se avete degli amici che sono proattivi che vi spronano che vogliono veramente che voi raggiungiate quel risultato raggiungiate quel risultato e quell'obiettivo allora sarà molto più facile arrivarci se avete persone che vi trascinano indietro che vi dicono ma no non lo fare è troppo rischioso ma no facendo trading o investimenti si perde soldi ma no non aprire un'attività è meglio il posto sicuro che ti dai soldi tutto il mese piuttosto che rischiare ragazzi questi sono consigli che purtroppo se li seguite non vi faranno mai arrivare dove dovete, dove volete quindi cerchi amici e vi assicuro che circondarsi delle persone giuste può essere anche... può anche aiutarvi più in là perché poi magari un'attività la fate insieme ad altre vostre contatti o insieme ad altre persone che conoscete quindi è anche importante per questo aspetto recentemente ho pubblicato sul mio canale Instagram una frase di credo Ray Dalio che diceva uno dei miei più grandi successi è stato quello di circondarmi delle persone giuste che poi nella vita mi hanno aiutato e mi hanno spinto e mi hanno dato altre opportunità di business e di lavoro quindi importante questo punto vorrei concludere con altri due punti ragazzi che sono importanti nella vita leggete siate sempre incuriositi imparate sempre cose nuove perché vi torneranno utili ricordatevi una cosa i soldi possono andare e venire ma il vostro bagaglio culturale e la conoscenza che avrete maturato quella non ve la toglierà nessuno i soldi sono solo un mezzo con cui riuscire a fare business a fare investimenti a far trading ma vi assicuro che quelli i soldi li troverete sempre se avrete le conoscenze dal punto di vista di bagaglio culturale e dal punto di vista di networking e di amicizia ecco di nuovo l'importanza del punto precedente quindi nella mia vita ho letto tanto leggo, continuo a leggere tanto leggo, dipende dalle annate ci sono annate che leggo di più e annate che leggo di meno ma diciamo quei due o tre libri due libri al mese me li faccio sempre quindi nell'anno in cui ho letto di meno ho letto almeno 25 libri ci sono anni in cui riesco a leggerne il doppio dipende anche dal tempo che riesco a dedicarvi a questa cosa ma siate sempre curiosi di imparare di scoprire cose nuove nel business vi tornerà sempre molto utile soprattutto se avete fatto la scelta di essere di diventare un imprenditore beh a quel punto essere un imprenditore non vuol dire essere un tuttologo ma sicuramente una cosa vuol dire che più cose sapete e più potete vedere e capire il mondo da vari punti di vista diversi interessatevi al marketing interessatevi all'economia agli economics interessatevi all'aspetto finanziario interessatevi all'aspetto tecnico di un potenziale business insomma leggete, studiate fate i corsi abbiate dei mentor e soprattutto leggete a me una cosa che ha aiutato tanto sarà quella di leggere le biografie delle persone che hanno avuto enorme successo nella vita e capire quali erano stati quali sono stati i passi gli step la strada che le strade che hanno percorso e gli errori che hanno fatto per cercare di evitare esattamente come sto facendo con questo video ultimo bonus finale ma probabilmente il più importante uno degli errori che ho fatto quando ero ragazzo e sto cercando adesso di rimediare è stato quello di un po' dare per scontato le persone che avevo intorno gli affetti più importanti in primis i miei genitori mio fratello i miei amici ecco se tornassi indietro darei sicuramente più importanza e più attenzione a queste alla sfera diciamo così emotiva non mi viene adesso una parola più utile ma darei un peso maggiore al tempo che dedicherei ai miei affetti quindi non date mai per scontato le persone che veramente nella vita vi vogliono bene e che se vi danno un consiglio è perché veramente vogliono darvi un consiglio per non fine a se stesso ma per il vostro bene ma poi ricordatevi sempre una cosa ragionate sempre con la vostra testa perché solo voi sapete dove volete arrivare nella vita ragazzi questi sono un po' gli errori che ho fatto e le cose che mi sono sentito di condividere con voi vi chiedo qui sotto nei commenti se ci sono altre cose importanti aiutiamoci siamo una grande comunità soprattutto aiutiamo i ragazzi che si stanno adesso inserendo nel mondo di oggi che è un mondo estremamente complesso competitivo e quindi riuscire a non fare questi errori permette di più velocemente di arrivare dove si vuole arrivare lasciatemi qui sotto un commento un like se questo video vi è piaciuto noi ci vediamo prestissimo grazie mille dell'attenzione buon trading a tutti ciao